Chissà se a fantasia sanno che esiste in Eferta Rieva. Chissà, forse. I Creative Commons sono per me un gran regalo anche per te. Sono un affare, davvero lo so, io ci ho messo e tu mi hai messo nel cuore. I Creative Commons, se posso dire, ho fatto un affare, darà breve dire. I Creative Commons sono una sorpresa, puoi farne l'attesa della tua giornata. Sono davvero una cosa speciale, ma guai a pensare che forse l'affare non c'è. Ba di ba, ba di bi bi ba, la ri 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 da di da di da. Ma se non ti va bene, puoi anche spegnere internet. Oh yeah!